Consigliere delegato al commercio, si sta lavorando in maniera molto molto alacre in queste ore per definire il nuovo Natale di Tolentino. Stretto rapporto con i commercianti, con la città per arrivare ad un programma che sarà condiviso da tutti. Sì, stiamo stringendo per illuminare questo Natale, cercando il più possibile di trovare un compromesso fra risparmio e luci. Siamo in contatto con diverse ditte per trovare questo giusto compromesso, per fare belle luci e cercare di stare attenti nello spendere. Sarà un Natale insieme a tradizione, l'albero con le luci, la casetta di Babbo Natale, i presepi, nulla di eclatante. Quest'anno facciamo il classico, dopo gli altri anni vedremo. Coinvolgere più parti possibili della città, ce ne sono tante, tante associazioni di tutti i generi, quindi vorremmo da loro l'idea per questo Natale che speriamo e auspichiamo che sia veramente proprio in questo momento un gran bel Natale. Sono rimasti 10 giorni perché in realtà la delibera era già uscita. Poi da lì ci sarà una commissione che andrà a valutare, composta da istituzioni, parti appunto inerenti, quindi commercianti, media, eccetera. Valuteremo l'idea migliore per sviluppare anche il tema del Natale. Questo concorso di idee sta proprio a dire noi ci mettiamo un po' di quattrini, ci piacerebbe non avere l'univocità, ma magari c'è qualcuno che ha una buona idea, la potremo fare insieme e la potremo fare insieme per Torrentino. Questa è l'idea sostanzialmente. Sarà selezionato da un pool di persone che non in maniera personalistica ma valutando l'insieme del progetto lo farà vincere sostanzialmente e quindi vedremo che cosa viene fuori dalle menti dei torrentinati. Che forse pensare insieme si pensa meglio.